Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Donald Sutherland, celebre attore canadese, è morto all'età di 88 anni. La notizia è stata annunciata dal figlio, Kiefer Sutherland, con un tweet toccante, con il cuore pesante, annuncio che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Ritengo che sia stato uno degli attori più importanti nella storia del cinema. Mai un ruolo, che fosse buono, brutto o cattivo, lo ha intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava. Non poteva chiedere di più. Una vita vissuta bene. Donald Sutherland, noto per il suo talento e la sua versatilità, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema, teatro e televisione. Con una carriera che si è estesa per 60 anni. Sutherland ha debuttato nel cinema nel 1964 con Il Castello dei Morti Vivi e ha raggiunto la fama mondiale nel 1970 con Mesh di Robert Oppmann. Da quel momento, la sua carriera è decollata, portandolo a recitare in film di grande successo come Fate la rivoluzione senza di noi, Il giorno della locusta, La notte dell'Aquila e Il casa nuova di Federico Fellini. Ha collaborato con registi di fama internazionale come Bernardo Bertolucci in 900 e Clint Eastwood in Space Cowboys. Nel 1995, ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in Cittadino Decimo e ha continuato a stupire il pubblico con ruoli memorabili in ritorno a Cold Mountain, Hunger Games, Lord of War, Orgoglio e Pregiudizio e la serie Journey Sexy Money. Nel 2017, gli è stato conferito un Oscar alla carriera, un riconoscimento al suo straordinario contributo al mondo del cinema.